Dopo i due falsi positivi dello scorso fine settimana prima della gara contro il Cosenza, gli ultimi test molecolari hanno evidenziato la presenza di cinque positivi all'interno del gruppo giallorosso. Si tratta di due componenti del gruppo squadra e di tre elementi della formazione di mister Eugenio Corini. Una condizione che dovrebbe portare al massimo allo slittamento della partita contro il Pescara, prevista per la giornata di lunedì alle ore 21. Difficile pensare ad uno spostamento dell'incontro dopo quello che è accaduto tra Regina e Salernitana proprio nel corso di questo fine settimana con gli emiliani che a causa dell'alto numero di contagi non si sono presentati a Salerno e complice un regolamento carente da questo punto di vista si sono visti a segnare la sconfitta a Tavolino. Per il Lecce già nella giornata di domani sono in programma nuovi test per verificare lo stato di salute della formazione salentina che si trova nuovamente alle prese con una vigilia di fuoco da affrontare come era già successo appena sette giorni addietro l'incubo covid torna ad aleggiare su Lecce di Corini.